Tante per Inerazzurri sul pallone, il destro è disquizzato, il sinistro di Oristagno Va proprio Oristagno, spallone per Mulattieri e grande parata di Meli e poi sul tap-in Arriva il gol di Intube e l'Inter Intube sceglie Oristagno centralmente, controllo così e così ma comunque efficace Ancora sul sinistro, ottima apertura nuovamente per Di Marco che la mette in Sato Oristagno, si propone Gianelli a destra, arriva anche Moretti, mezzo Mulattieri dall'altra parte Di Marco Oristagno va a cercare proprio Di Marco, grande tracciante per Sovrastato da Cortinovis Gianelli va in profondità, Oristagno controlla col sinistro, mezzo a tre Lotta e scappa via in maniera elegantissima e anche Veronica, grande giocata Pura classe di Gaetano Oristagno, sposta il pallone, ruleta e fallo di Aslani Gianelli prova a spizzarla da Oristagno, colpo di tac, 1-2 che si chiude con Mulattieri Grande giocata dell'Inter, occhio ad Oristagno, pallone in profondità, Mulattieri Arriva per un pelo Moretti ad anticipare Cannavò Oristagno in mezzo a tre, si autolancia ancora, grande giocata di Oristagno che prova a scappare via in velocità Resista una carica, Oristagno entra in area di rigore Calcio di rigore, calcio di rigore per l'Inter Resiste Aviti e poi Adamoli Lo tampona alle spalle Appena all'interno Va Oristagno Spiazza Meli E fa 2-0 Al 40 Al 40 Grazie a tutti Al 40 La 大